Ciao ragazzi, ringrazici quello di noi su Neptune, scusate, allora il predimension Neptune sarà il primo ovviamente tra poco avrà fuori anche il secondo è probabile che lo prenderò allora andrò ancora un pochettino a livellare sennò è vero Sì, certo! Si, e... S has avuto la scuola! Ah, ecco... Ah, ecco... eeeh, finito ciao, ciao bello livello 23, 23 ok quasi quasi ritorno indietro senza che cosa abbiamo livellato con la nostra neptune ok salviamo ok livello 23 22 24 23 22 siamo superi allora io andrei a fare adesso l'evento ah assolutamente l'esercizio ma se non ci sia il momento non ci sia il momento a dire se non ci sia il momento che non ci sia il momento che non ci sia il momento che ci sia il momento che non ci sia il momento anche se non ci sia il momento che ci sia il momento che non ci sia il momento ma penso che un po' più credo che Andiamo avanti, schipiamo tutti questi affari, sennò stiamo a tre anni ragazzi, mi spiace, ora abbiamo una nuova spada, stupendamente bene, adesso andiamo a vedere equipaggiamento, non abbiamo nessuna spada noi, ah si apparello, una nuova spada, ok, tu non ho niente, e se non mi sbaglio non ho ancora niente, ma, schipiamo ragazzi, mi spiace, sennò ci perde un casino di tempo, che succede? Schipiamo, troppi dialoghi, soprattutto neanche in italiano prova, l'unica pick è sto gioco, ok, fatti uno, tre abbiamo, adesso, cambiamo di nuovo, ok, c'è un'altra piccola, si può dire questo, dai, allora vediamo le nuvolette, se ci sono qualche post, altro, no, ok, eccola qua, news, ho celdato una chiave a memoria, non ho capito ancora cosa ci segue le chiavi, però almeno lo stesso, ok, qua è a posto, qua è a posto, allora, new, questo è tutto il new, facciamo un momento che c'è l'eventola, voglio andare a vedere un momento, i dischi, abbiamo fatti già tutti, achievement, non abbiamo neanche uno, no, devo sbloccare, ok, la shop, le armi, oh, abbiamo nuove armi, entumina, e ci prendiamo anche questa per la nostra amichetta, adesso abbiamo le nuove armi per, per lei, mister rat, e per lei che abbiamo un red glow, i guanti da bugilato, ok, andiamo a fare l'eventola, ma si, che sa frega, schipperò ovviamente tutto il dialogo, per fare una cosa veloce veloce, se lo stiamo a tre anni, oh, una nuova amichetta, ok, c'è un nuovo evento, allora, c'è mancola lei, lei sta andando al 23, anche lei 23, ok, non abbiamo, nessun altro no, ok, ah, ci manca uno, wow, bellissimo, e mettiamo, e aspettiamo l'oglio, che meno così siamo a posto, item, bla 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 bla, allora, che c'è un nuovo qua, informazioni, cut, di planet bla 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 bla, ok, buonissimo, ok, tre abbiamo, qua schip, ah no, questa è la guerra, super attacco, super attacco, ok, super attacco, aia, basta, grazie, grazie, ciao, ciao, livello mio, livello mio, livello mio, livello 23, ok, non c'è altro, andiamo, le cure, in fondo, c'è altra roba, che ci piace tanto, cerco di no, 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 ok, intanto vediamo la roba, una scorsa, se ci sono qualche paraggi, no, fiorellino, no, no, non puoi abbaio, ragazzi, ok, torniamo indietro, ragazzi, se no qua, ci fanno la pelle, intanto scanniamo qua, se torniamo roba strana, voglio tornare indietro, sapere com'è, per salvare così almeno, ok, salviamo qua, ritorniamo, arriva, arriva, bomba, eso sì che arriva, e muori bene, grazie, ah, ecco, a me volevi ammazzarmi, ciao bello, ok, livello 23, adesso noi facciamo, eh, item, allora, facciamo questo qua, ok, ok, allora, adesso, mi piace, che, che, mi piace, due. Aia aia! Aia che dolore! Aia! Vieni qua! Le faccio anch'io tanto male adesso. Ecco mi muori. Vieni qua, fiorellino bello. Ciao! Allora, vediamo un pochettino equipaggiamento. Allora, qualcuno aveva... No, lei no. Comunque è meglio questo va. Ok, vediamo un pochino lei, niente. Lei niente. Lei? Niente. Meglio quella da... Questo qua con il fiorellino, sì dai. Ho fiorellino. Vieni qua. No, provento. Ah, ii temps, i noi ave. Non arrivo a prenderlo? Possibile. Ma dai, non arrivo a prenderlo. Aia! 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 Ok. Salviamo. Salviamo qua. Allora, dobbiamo una spada nuova. Per chi? Per nessuno delle nostre? No. Ah, perché per quell'altra era, ok. Vediamo se ho preso un... Vabbè, carino. Naro, blu. Ok. Quante soglie abbiamo? Oh, 14.000 va. Andiamo qua di nuovo, ragazzi. Una morta. Sì, è una cosa che tiene i forzi. Ciao. Ciao, bel fiorellino. Allora, no, ci manca 108. Sì, va. Ci manca il livello 25, lei. Sì, andiamo a farcelo. Uh, sì, basta. Ancora No, no, ancora che ti fai questa roba Ciao Morto Livello 25 Allora, questo qua non l'avevo visto Allora, adesso andiamo a fare un'altra cosetta Ok, allora Siamo sempre qua I dischi Allora, abbiamo 4 dischi Abbiamo 4, eh, infatti no Lei manca se non sbaglio il disco Allora 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 Andiamo a vedere l'1 Pixar, che dov'è? Automob Cioè Ma questo va benissimo Allora, l'u2 Bigoline, facciamo questo qua Ok, dopo Questo qua lo svuotiamo RPG Ok, adesso questo qua Lo svuotiamo RPG E Friscenario E Ok Poi questo lo facciamo così Livello 1 Livello 1 Livello 2 Ah sì, ce l'abbiamo Random E 2 Scusa qua Perché altri Livello 2 No, non lo abbiamo Solo questo Ok Fatto anche Cascario 2 Vabbè Adesso Allora Allora Equipaggiamo Questo qua Allora L'Equipaggiamo di faus equipaggiamo uno e questi due e equipaggiamo questi ok e quell'altra non si possiamo equipaggiare niente perché non abbiamo abbiamo solamente 4 poi il party rimane così 5-1 benissimo no 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 ah 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 Adesso devo prendere più di uno, ma anche due. Porti tutte qua, benissimo. Basta avete rotto le palle, fiori. Va via, anche il tuo fiore è lino. Ciao bello. Andiamo via. Dopo un po' aspetto che mi vado a prendere un pochino di fiore. Shop. Allora. No, non cambia più questo qua. Prendiamo 10. L'HP ci prendiamo. Non abbiamo tanto prezzo. Vabbè ragazzi. Noi ci sentiamo a un prossimo gameplay. Sempre corso VoIP. Ciao a tutti.